Giuro di osservare realmente la Costituzione italiana. Della consapevolezza, dalla complessità del ruolo che mi accingo a esercitare unitamente alla Giunta e al Consiglio tutto, dopo aver giurato fedeltà alla nostra Costituzione, avvio ufficialmente i lavori di questa amministrazione comunale. Vedo la città in chiaroscuro, se da un lato sono molti e sempre crescenti i bisogni dei nostri concittadini più fragili, numerosi problemi da affrontare, alte le aspettative, ardua la sfida di trasformare l'uomo in una città nella quale tutti, nessuno escluso, siano felici e orgogliosi di abitare, dall'altro lato sono grandi il cuore e il talento dei comaschi, è straordinaria la nostra città per la sua storia, la sua bellezza, la tradizione e le sue potenzialità. In cinque anni siamo chiamati insieme, maggioranza e opposizione, a dare risposte sollecite, coraggiose, lungi milanio. Il mio auspicio è che anche da quest'Aula, nel rispetto dei ruoli di ognuno, possono arrivare le proposte, le critiche costruttive, gli stimoli per governare al meglio questa città. Lo dobbiamo ai cittadini che sono andati alle urne e anche a tutti coloro che, forse delusi dalla politica, non sono andati a votare. A nome mio personale, di quante stasera rappresento, e se tutti qui accanto a me, davvero a tutti e buon lavoro.